Questa è la storia di Alice Caspirina, che cascava sempre dappertutto. Il nonno la cercava per portarla ai giardini. Alice, dove sei? Dove sei, Alice? Sono qui, nonno. Dove qui? Nonno, sono nella sveglia. Sì, aveva aperto lo sportello della sveglia per curiosare un po', ed era finita tra gli ingronaggi e le molle, ed ora le toccava di saltare continuamente da un punto all'altro. Ad un certo Icarione, costruttore per passione, venne un giorno una mania, quella di volare via. E così lui meditò, senza ali, volo, no. Per poter ricollare, cominciò a lavorare. Prese piume e doca bianca, penne di gallina stanca, lunghe piume doca nera, penne d'anatra, leggera, ricce piume doca pazza, penne di piccione e gazza. Con la pece le incollò, con la pece le fissò, e si fece un paio d'ali, belle, grandi, eccezionali. La finestra poi aprì, ed in piedi vi salì. Ma Icarione, che sbadato, non aveva calcolato alle ali la misura, e così dura sciagura, non passò dalla finestra, cadde e picchiò la testa. Musica 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 Musica